ciao a tutti da miranda benvenuti sul mio canale con la rubrica del cuore prima appunto volevo fare una piccola premessa oggi è domenica buona domenica a tutti del 15 settembre appunto 2019 e spero che la stiate passando serenamente volevo dirvi appunto che se non vi siete iscritti al mio canale iscrivetevi pure perché appunto attivando la campanellina riceverete tutte le notifiche dei miei video che pubblicherò sotto in basso in descrizione al video potrete trovare anche il mio indirizio di email per contattarmi che è scritto tutto piccolino miranda telegrafica chiocciola gmail.com e adesso cominciamo con le persone appunto che mi hanno scritto oggi abbiamo insomma altri tre casi un po delicati ecco un pochino particolari diciamo forse sì molto diversi dagli altri delle altre persone in modo appunto particolare la prima persona che mi ha scritto appunto mi parla appunto che malata di cancro e non è non si è ancora sposata questa persona non dico il sesso non lo voglio neanche dire perché appunto c'è la privacy e appunto mi ha raccontato che sta facendo come voi sapete tutte quelle terapie sta perdendo i capelli e non l'ha detto al suo compagno ecco avete già capito il sesso e quindi niente molto preoccupata dice appunto che la vedrà senza capelli ma non vuole dire niente per per non perderla e io ho detto scusa se ti vuole bene e dice cosa ne pensi che se ti vuole bene dovrebbe starti vicino e da lì che appunto si riesce a vedere l'amore il vero sentimento appunto se invece lui la lascia poi da sola ovvio che non è amore perché appunto ricordando anche la bella e la bestia ecco il famoso cartone animato della col disney si sta per amore si sta anche con una persona molto brutta e quindi perché appunto è l'amore sempre che trionfa e quindi lo stesso vale per la malattia bisogna restare sempre vicino alle nostre persone care anzi potrebbe anche essere di aiuto perché magari questa malattia che tu hai e magari non è neanche maligna come tu pensi un tumore benigno ecco quindi potrebbe anche aiutarti ad uscire da questa depressione diciamo malattia per stare poi anche meglio che cosa ti consiglio di fare ti consiglio di fare di parlare assolutamente subito con lui perché appunto deve sapere questa cosa qua anche perché si accorgerà che tu perderai punto tutti i capelli quindi che cosa le vai a dire che hai fatto un shampoo con la tinta dal parrucchiere che non è andato bene e no e quindi devi cercare appunto di chiarire questa cosa qua e poi magari lui ti potrebbe anche indirizzare non so un altro medico perché tu non sai ancora di preciso se un tumore maligno o benigno quindi potresti benissimo uscire fuori perché appunto tu che sei malata non puoi aiutarti da sola è sempre meglio avere qualcuno vicino un supporto anche psicologico che aiuta che fa stare bene perché tutto parte dalla testa se noi stiamo bene di testa con noi stessi allora riusciamo meglio anche a fare le cose a non lasciarci prendere dall'ansia e tutto il resto quindi ti consiglio di fare questa cosa qua mi dispiace molto ti faccio tanti auguri di buona guarigione e fammi sapere spero che tu guarisca che esca da questo brutto tunnel che quando si entra appunto sembra non uscirne più posso appunto immaginare adesso vediamo appunto la seconda persona che è innamorato dell'amica della sua fidanzata questo è un bel guaio un po pasticcio lui racconta appunto che tutte le volte che escono in gruppo con gli amici e lui non capisce più niente ovviamente la sua fidanzata lo guarda dice ma che cosa ti succede ho dimenticato il portafogli e mi sono dimenticato forse non so il gas aperto a casa per poi correre a casa e mandare messaggi all'amica e l'amica dice scusa ma io non posso appunto stare con te se tu stai con la mia amica non puoi stare con due piedi in una scarpa e non sarebbe neanche giusto lasciare la puntini puntini la sua amica appunto poi appunto non so in un momento anche intimo avete già capito magari lui è distratto e la fidanzata dice ma che cosa ti succede no niente come niente dice ma prima non eri così che cosa ne penso e ne penso che tu appunto io penso che da questo pasticcio dovresti parlare con l'amica prima per capire appunto se prova qualcosa per te cioè ovvio che non siete sposati non c'è nessun legame se sei più innamorato dell'altra dell'amica e anche l'amica innamorata di te magari potresti ecco fare un tentativo di uscire magari non so per un caffè per non per la sera ecco per una cena una cosa piccola magari in un bar lontano dalla zona dalla quale abiti per non fare appunto vedere magari potrebbe incontrarti la sua fidanzata e riuscire a capire che cosa provi per lei dovresti appunto avere questo sentore e lei che cosa prova per te parlare insomma parlare insieme perché linguaggio è molto importante il dialogo ecco scusate e quindi dopo di che dopo che avrete chiarito appunto questa cosa riuscire a capire anche con la tua ragazza che cosa provi quindi o non stai con nessuna delle due perché non puoi giocare con la tua fidanzata se non sei innamorato oppure riuscire a capire con l'amica appunto per poi parlare con la tua fidanzata mi dispiace dirlo e nel caso dire appunto mi dispiace mi sono innamorato di un'altra persona però prima di riuscire a capire te quello che vuoi cosa vuoi dalla vita infatti devi ascoltare te stesso il cuore magari non so in un posto io consiglio sempre di isolarsi non so nella propria camera in un posto che dove tu stai bene con te stesso solo riesci a capire quello che tu desideri e che senti per quella persona perché non si sta insieme per così per piacere insomma per divertimento per fare poi stare male anche l'altra persona perché più tempo passa più poi legame si si rafforza migliora e quindi poi dopo tanto tempo ci può essere anche della sofferenza da parte di uno dei due dunque adesso è l'altra persona la terza perché anche oggi tratteremo tre casi facciamo tre casi alla volta magari qualche volta potrà capitare anche il quarto il quinto il terzo caso appunto mi dice che questa persona sta con il suo compagno solo perché si sente da sola e non esiste non esiste perché appunto non si sta con una persona per non sentirsi da soli allora tutti facciamo qualcosa così prendiamo in giro le persone non so per non sentirci da soli e no c'è una cosa che che non fa bene non fa meno perché poi ti sforzi talmente di fare quella cosa e che non va bene cioè potrebbe andare tutto storto magari fa stare male l'altra persona non esiste proprio quindi punto questa persona mi racconta mi raccontava mi ha scritto che lei per esempio non so cucina fa le cose che piace fare per poi non avere nessuna soddisfazione dall'altra persona è ovvio perché se fai le cose per forza che soddisfazione puoi avere solo perché magari hai voglia di cucinare qualcosa e voglia di mangiare qualcosa dici la mangiamo insieme usciamo così andiamo al cinema per condividere qualcosa ma poi non stai insieme bene con quella persona perché perché per non sentirti sola ti sforzi per stare con quella persona e poi mi raccontava appunto che l'ha portato dai suoi genitori prima lei ma diciamo che vabbè non esiste molto questa cosa secondo me deve essere prima l'uomo appunto a presentare la famiglia e sì quando poi appunto sei sicura e allora ovvio lo porti dei tuoi cioè secondo me io la penso così sarò magari un po' all'antica magari non so puoi parlare dei tuoi potevi parlare dei tuoi genitori dire non so mia mamma mio papà sono così ma l'iniziativa deve essere appunto da parte dell'uomo secondo me ecco altrimenti quello capisce male potrebbe anche prendere in giro appunto una donna ecco parlo in generale ormai tu l'hai portato a casa e lui non ti ha ancora portato dei suoi genitori quindi dovresti riuscire a capire questa cosa qua se tu l'hai portato dai tuoi e lui non ti porta non so dalla sua cerchia di amici non non ti fa conoscere nessuna persona dei suoi conoscenti e neanche i genitori e non uscite insieme e scusa che legame ci sta insieme perché ti senti da sola e oltretutto spendi soldi immagino e vai di testa e quindi che cosa ti consiglio di fare ti consiglio di fare e di dunque capire se non sei innamorato appunto di questa persona che sicuramente non sarà innamorata perché ci stai solo per non sentirti da sola dovresti troncare subito questo rapporto perché spendi oltre a tanta energia spendi tutto per lui e quindi cioè non ne vale la pena se non sei innamorata non si sta insieme una persona per non sentirsi da soli perché potresti poi rifare lo stesso errore con le altre persone perché questa persona potrebbe anche lasciarti scusa se te lo dico non ti ha portata dei suoi genitori quindi lui ha capito e sta approfittando anche di te stai attenta perché poi potresti stare male e che cosa potrebbe succedere che dal momento che lui ti potrebbe lasciare non ti sto dicendo che ti lascia potresti attaccarti a questa persona dal momento che lui appunto ti stia lascia ti sta per lasciare e quindi accadrebbe l'opposto poi tu ti sentiresti davvero ancora più sola e ti potresti innamorare proprio in quel momento quando lui ti starebbe per lasciare quindi stai attenta a questa cosa perché potresti soffrire soffrire anche molto io mi auguro che tutte e tre le persone possiate risolvere appunto questi problemi ci sono persone appunto altre persone che mi hanno scritto non ho oggi scusate il tempo per per fare appunto un altro colloquio appunto per un'altra persona perché ho un altro video in corso un altro video in corso che poi vedrete e quindi devo fare sì altri video purtroppo il piacere mi chiama diciamo così io vi auguro di trascorrere una bellissima domenica e se non siete ancora iscritti ancora il mio canale e vi potete iscrivere e sono molto contenta scrivetemi pure le vostre e i vostri problemi io vi ascolterò sempre faccio anche consulti privati le letture tarocchi di rider white che presto pubblicherò pubblicato quello l'oroscopo appunto le previsioni scusate settimanali della settimana come avrete forse visto le potete trovare e anche le mie ricette di cucina ci sono anche video di asmr e ho pubblicato anche altri video potrete appunto andare a visionare tutta la mia playlist i miei video adesso vi saluto un bacione a tutti da miranda e alla prossima aspetto i vostri messaggi le vostre mail ciao a tutti grazie un bacio